Consegnare le chiavi quando si affitta una casa a vacanza o un B&B può diventare un problema, specialmente quando ci si trova a dover gestire il tutto a distanza. Con la serratura a codice elettronica Guest Key possiamo gestire completamente in autonomia tutte le operazioni del self-check-in. Il codice numerico necessario per attivare la nostra serratura elettronica Guest Key sarà inviato direttamente all'ospite tramite WhatsApp o tramite mail. Con il sistema che meglio preferisce, liberando così l'ospite dall'incombenza dell'orario e soprattutto il gestore dal dover consegnare le chiavi della struttura. Niente più beige per la gestione della nostra struttura, solo un codice che ci consente di gestire il tutto in completa autonomia e semplicità, fino a 99 stanze, di gestire il soggiorno del nostro ospite, abilitare tutte le utenze per il tempo necessario al soggiorno dello stesso. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.guestkey.it